Ciao ragazze, oggi vi mostro come lavorare il Fiberglass Builder Gellify di Lafam. Come potete notare è ricco di fibre di vetro, come già anticipa il nome stesso del prodotto. Dopo aver preparato la lamina, stesso Gellify Universal Base e inseritola nel form wild, vado a creare il mio scheletro. Fra le varie caratteristiche di questo costruttore troviamo un'elevata viscosità, per cui ci consente di lavorare anche più unghie contemporaneamente. Dopo la polimerizzazione dello scheletro, rimuovo la nel form e procedo con la struttura. Queste sue caratteristiche lo differenziano dagli altri gel e lo rendono particolarmente adatto alle unghie più sensibili e rovinate. Dopo aver polimerizzato e limato la struttura, procedo con la stesura del colore. In questo caso ho scelto un semipermanente mafri, l'H325. Termino il mio lavoro sigillandolo con il Top Coat No Wipe di Lafam. Io ho realizzato una forma da salone, ma questo gel si presta benissimo anche a ricostruzioni più estreme. Questo è il risultato finale e spero vi piaccia.